Importanti test per Pilippo Bianchi in vista della seconda prova del trofeo Monomarca Aprilia 660. Dopo lo sfortunato quinto posto al Mugello, il giovane Centauro Lucchese punta deciso al podio. E dopo alcuni test bagnati effettuati nelle settimane precedenti alla gara del Mugello, ecco la prima sessione di test soleggiata a Misano Adriatico, caratterizzata da asfalto asciutto. Sei i turni effettuati da Bianchi per un totale di oltre due ore. Grande determinazione da parte del team e anche del pilota lucchese, con alcune modifiche al setup che hanno migliorato notevolmente il feeling e il tempo sul giro. Una giornata di allenamento davvero produttiva. Adesso l'obiettivo è quello di rimanere concentrati e lavorare a fondo per il weekend di Misano, in programma sabato 3 e domenica 4 giugno. Tanta è l'emozione che avvolge Bianchi che non vede l'ora di essere nel paddock del suo primo evento mondiale. Si correrà infatti nel weekend del mondiale Superbike, col piacere e l'onore di vedere da vicino tutto questo splendido Circus. Prima però, sabato 27 maggio, sempre a Misano, l'evento Aprilia lo Star, dove Filippo sarà ospite insieme a tanti altri piloti. Prenderanno parte all'evento anche alcuni grandi campioni della MotoGP, quali Vignales, Spargaroli, Vera, Fernandez, Salvadori e altri miti del recente e glorioso passato della Casa di Noale, come Max Biaggi e Loris Capirossi.